170 morti e 7.783 persone contagiate, la gran parte in Cina e Asia, ma non mancano Francia e Stati Uniti con 5 casi e Germania con 4. Il coronavirus è giunto perfino in Finlandia con una persona contagiata. Per ora in Italia non si registrano casi, ma l'attenzione rimane alta. Ancora ieri sera a Roma una turista cinese si è sentita male e adesso si trova in osservazione. Nelle ultime ore poi sono stati controllati anche due asiatici con febbre a bordo di una nave da crociera ferma Civitavecchia. Si tratta di una coppia di Hong Kong, i due sono saliti a bordo a Savona dopo essere arrivati in Italia, malpensa, il 25 gennaio. Insieme a loro 6.000 passeggeri bloccati sulla nave. Ma i casi segnalati nelle ultime ore nel paese sono diversi, anche se tutti al momento infondati, fa sapere il Ministero della Salute. Proprio questa mattina il Ministro Roberto Speranza, nell'informativa alla Camera, ha chiarito che l'Italia è in costante contatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e monitora attentamente la situazione. Per farlo è stato istituito anche un numero di telefono 15 00 per fornire informazioni e raccogliere eventuali segnalazioni di casi sospetti. Intanto gli italiani bloccati a One nelle ultime settimane stanno rientrando a casa. A loro arrivo potrebbero trascorrere gli eventuali 14 giorni di sorveglianza sanitaria in una struttura militare.